Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Non si placa Giorgia Meloni nel difendere strenuamente la causa di Kiev, che in realtà, come ormai sanno anche i muri, è la causa di Washington contro la Russia, da che l'Ucraina del Guido Zelensky attorenato con la N maiuscola prodotto in vitro di Washington se non di Hollywood è semplicemente il casus belli e di più il bastone che Washington utilizza contro la Russia di Putin, colpevole di non genuflettersi al nuovo ordine mondiale americano centrico. Giorgia Meloni ha detto ancora nei giorni scorsi Kiev conti su di noi, sic. Dunque Giorgia Meloni non rinnega la propria adesione integrale all'imperialismo di Washington, proprio lei che si era definita patriota e sovranista, con tutta evidenza sta dimostrando come il suo patriottismo e il suo sovranismo coincidano con la subalternità eterna dell'Italia a Washington. D'altro canto ricordiamo tutti i cinguetti amichevoli scambiati tra Giorgia Meloni e il Guido Zelensky su Twitter, il cinguettatore, e ricordiamo tutti gli abbracci amorosi che si erano scambiati nei loro incontri in presenza. Dunque, nel Novi Subsole, continua la tragicomica adesione dell'Italia e dell'Europa tutta alla guerra che Washington sta conducendo, utilizzando l'Ucraina contro la Russia di Putin, ed è da sperare, come non mi stanco di dire, che Russia, Cina e tutti gli altri paesi disallineati continuino eroicamente a resistere all'imperialismo della civiltà dell'hamburger.